Allora la formazione della regione toscana, quello del turismo Stefano Cioffo che conclude l'iniziativa voluta proprio dalla regione in collaborazione con il quotidiano La Nazione, l'Arco Baleno d'Estate. Cinque giorni di iniziative in tutta la Toscana per dare il benvenuto alla bella stagione ma anche per rilanciare il nostro turismo. Allora sentiamo come sta il turismo toscano dalla viva voce dell'assessore Cioffo e poi parliamo invece del rilancio degli agriturismi soprattutto in Maremma con Giancarlo Capecchi. Il turismo ha passato momenti di difficoltà nel nostro paese, la Toscana ha retto meglio di altre destinazioni ma veniamo da un 2015 positivo con incrementi percentuali apprezzabili Finalmente è tornato il turismo interno, è ripartito in maniera importante il turismo da destinazioni per noi estremamente interessanti e importanti. Ci aspettiamo per questo 2016 ancora un incremento ulteriore percentuale in positivo e stiamo lavorando, consolidando sulla scorta di questi dati che ci incoraggiano ci sono interventi di riqualificazione, di ulteriore approfondimento, di varietà delle offerte turistiche che stiamo cercando di porre sul mercato. Ci interroghiamo come stare nella competizione e come da parte delle istituzioni si possa affiancare il mondo degli operatori. Convinti come siamo che questo sia il settore forse più rilevante dell'economia toscana.